agli ordini dello starter tutto è pronto partiti grand'oriente peng cioccolata dall'esterno sempre verde con sempre verde good friend good friend sempre verde summer colors poi middle grey questa è la prima linea poi c'è little bit faster nel frattempo sempre verde in vantaggio su middle grey i due di scuderia che sono good friend summer colors poi allo steccato grand'oriente di fuori c'è little bit faster un po scoperto davanti sempre verde rincorso sempre da all'interno good friend di fuori summer color poi little bit faster che procede sempre middle grey poi grand'oriente poi cioccolata quando si entra addirittura sempre verde in vantaggio inseguito da good friend summer colors poi grand'oriente poi middle grey per varchi prova e recupero anche little bit faster poi cioccolata queste a lottare sempre verde little bit faster grand'oriente middle grey con middle grey little bit faster e grand'oriente poi valdantrui le slottano questi fino in fondo grand'oriente middle grey little bit faster poi al baiulia lotta furibonda grand'oriente in vantaggio sul little bit faster e valdantrui les che carpisce il secondo posto dietro grand'oriente val appunto che vince avevano corso troppo bene sia valdantrui les che grand'oriente che little bit faster e c'è anche al baiulia nel mezzo ma in questo caso 5 3 e poi tra il 2 e il 7 forse il 2 davanti al 7 grand'oriente valdantrui les e poi al baiulia e little bit faster vicini davanti a middle grey che si è presentata bene a corso benissimo probabilmente come abbassere al tiro middle grey potrà far l'arrivo in contesti analoghi vittoria di grand'oriente il team bitabile quando si sposta è sempre piuttosto velenoso 3 e 70 al tot battuti valdantrui les 4 e 85 poi al baiulia paga 10 e little bit faster avrebbe pagato 5 questo è l'ordine d'arrivo ufficioso per il terzo posto si va dal giudice è tutto ci siamo eccoci qua ultimo vincitore